Settimana europea della mobilità, oggi siamo in compagnia di Marco Cagnoli. Con Marco Cagnoli andiamo ad affrontare il tema di Chiamataxi. Quali novità ci sono, Marco? L'applicazione di Chiamataxi che sta per uscire, che stiamo per pubblicare, è stata completamente rinnovata, sia da un punto di vista tecnologico che da un punto di vista dell'usabilità. Diciamo che abbiamo realizzato un'applicazione che riteniamo essere in linea con i standard qualitativi attuali del mercato. È un'applicazione basata su mappe cartografiche, sulla individuazione della posizione in tempo reale tramite GPS, tanto dei taxi quanto degli utenti. E saranno previsti anche pagamenti elettronici con la possibilità di registrare la propria carta di credito all'interno dell'applicazione e pagare così la corsa del taxi direttamente attraverso l'app. Qual è il punto di forza di quest'app? Il punto di forza è sostanzialmente la visione che vi è dietro quest'app. Quest'app è stata sviluppata interamente da Roma Servizi per la Mobilità, per conto di Roma Capitale. Noi siamo una pubblica amministrazione e quindi evidentemente non abbiamo nessuno scopo di business, nessuna volontà di andare in qualche modo a fare una concorrenza nei confronti di soggetti privati esterni. Noi abbiamo a cuore il buon funzionamento del sistema, di trasporti in generale e in particolare del servizio taxi. Quindi diciamo che questa app sarà uno strumento a disposizione di tassisti, pubblica amministrazione e cittadini per fare in modo che il servizio taxi funzioni meglio e che complessivamente la città di Roma tragga dei vantaggi da questa operazione. Grazie Marco Cagnoli, grazie. Grazie. Grazie.